Ciao ragazze, prima di iniziare volevo ringraziarvi per tutti i commenti e dare il benvenuto a tutte le ragazze che si sono iscritte al mio canale Io davvero sono sconvolta, l'ho scritto anche su facebook perché non mi aspettavo assolutamente un riscontro simile Anzi, mi fa davvero piacere, sono sbigottita, davvero, non so che dire Voglio ringraziare anche quelle ragazze che si sono confrontate con me in maniera educata e gentile Anche se non condividevano il mio pensiero verso alcune youtuber e mi hanno spiegato la loro con educazione e gentilezza L'ho apprezzato molto E a questo punto, come vi ho detto, diciamo, tra virgolette, il cattivo, ovvero quello che a me non sta bene, vi dico anche il buono Questa settimana ho ricevuto una mail da Alice Laicodri Mi ha fatto molto piacere perché non mi aspettavo assolutamente un gesto simile Vedendo quello che ha fatto la sua collega sotto al mio video, non so qui a dirvi chi Perché tanto chi mi segue su facebook lo sa e non mi va neanche Ma voglio, diciamo, parlarvi di questa mail di Alice che mi ha fatto piacere Ha avuto un confronto molto gentile ed educato con me Ha rispettato, diciamo, le mie idee Lei mi ha spiegato, insomma, il suo parere in particolare per quanto riguardava il fondotinta Che comunque era un prodotto che veramente gli piaceva E che, come avevo detto io, aveva ricevuto dall'azienda E ha detto, mi sembra di, diciamo, di averlo detto Ho fatto, non lo so, Alice, se nel video non l'hai detto Però se l'hai scritto nell'info box, io alzo le mani Perché l'info box non l'ho visto Comunque, davvero mi ha fatto piacere Non mi aspettavo un gesto del genere Si è avuto davvero un confronto molto educato, molto gentile E quindi, come vi ho detto, diciamo, vi ripeto, il cattivo Vi dico anche il buono Ho apprezzato molto questo gesto da parte di Alice Alice Le Cudri Poi volevo rispondere, diciamo, a tutte le ragazze Che giustamente hanno detto Tu parli così per invidia Perché la tua vita è triste Perché non hai niente da fare Perché vorresti avere gli scritti di queste ragazze Allora, indubbiamente, se ho fatto un video del genere Sarei ipocrita a dire che non mi aspettavo Dei riscontri Nel senso visualizzazioni, qualche scritto Ma io davvero sono sconvolta Sconvolta per tutte le ragazze Che provano, diciamo, il mio pensiero Tutte le ragazze che mi hanno sostenuto Tutte le iscrizioni che ho ricevuto E tutte le visualizzazioni che ha quel video Tra le tante ragazze si è iscritta al mio canale Anche Giorgia Aprile Io quando ho visto, insomma, le mail Quelle della sua iscrizione Io stavo morrendo nel letto Perché io l'adoro E quindi, ciao Giorgia, se mi vedi E niente, volevo rispondere a queste critiche Cioè, io non sono invidiosa di nessuno Ho semplicemente dato un mio parere Su quello che vedo E che non mi piace, insomma, di YouTube Perché non hanno bisogno queste persone Di utilizzare questi mezzucci, secondo me Io ho una vita bella Cioè, ho una bella famiglia Ho un fidanzato che mi ama Ho degli amici splendidi YouTube non mi dà a campare Perché io lavoro Cioè, YouTube non ti dà a campare Come molte di voi pensano Eh, tu ci trai i guadagni Dalle visualizzazioni, eccetera, eccetera Io non campo con YouTube Se volete sapere, diciamo Quanto vi paga BuzzMyVideos in un mese Io per dirvi Il massimo che ho avuto è 30 euro E sono sincera Non ho niente da nascondere 30 euro non ti danno a campare Quindi io non sto lì Per guadagnare soldi Diffamando le altre persone Io ho semplicemente dato un mio parere Quindi, questo è Non invidio nessuno Perché io non mi posso lamentare È un lavoro E di certo YouTube non mi dà a campare Non è il mio lavoro Io sto qui per condividere una passione In questo caso ho condiviso con voi Un mio pensiero Che può essere approvato o meno Non ci vedo niente di male Ho espresso, diciamo, un mio parere Nessuno mai l'ha fatto L'ho fatto io Che vi devo dire Di certo YouTube non mi campa Con le visualizzazioni O con le iscrizioni Cioè una ragazza mi ha scritto Tu non hai il diritto di parlare Perché non sei nessuno Ma io l'ho detto stesso io Che non sono nessuno Però neanche Siamo in democrazia Io posso esprimere E dire che Caspita voglio Voglio dire Il canale è mio Il video è il mio E posso dire che voglio Perché hai 2.000 iscritti Nicole ne tiene 200.000 Ma se ne tenesse Nicole 200.000 iscritti Anzi io sono contenta E vi ripeto Sconvolta Per tutte le ragazze Che si sono iscritte E che il mio canale Sta crescendo Perché non me l'aspettavo Cioè io sono già felice Di mio Non ho bisogno Non aspiro A diventare Una star Di YouTube Perché vi ripeto La vita è altra Non è YouTube Adesso Chiusa questa parentesi Che ci tenevo A dirvi la mia Anche su questo Perché non sono invidiosa Di niente È semplicemente Un parere Che può essere condiviso O non Infatti molte ragazze Hanno dato la loro Mi hanno detto la loro Cioè Sì però Non sono d'accordo con te Perché Tizia È molto brava Quest'altra Io ho alzato le mani Ho detto Sono idee vostre Io ho fatto questo video Per sapere anche la vostra Cioè Assolutamente E niente Adesso passiamo oltre Vi faccio vedere Gli ultimi acquisti Che ho fatto In questo periodo Alcuni Li ho fatti sempre Al banchetto magico Che L'altro giorno Ho ricevuto Un messaggio privato Su Facebook Da una ragazza di Napoli Mi ha scritto Ma questo banchetto magico Che dove vai tu A Napoli Dove si mette Dove non si mette Perché ho detto Vabbè Vado dal signore Faccio la faccia tosta Gli chiedo Dove sta a Napoli Quindi per le ragazze di Napoli Questo banchetto Si mette Al mercato Di San Sebastiano Del Vesuvio O del Vesuviano Non mi ricordo Ha detto Che c'è praticamente Un cancello Voi entrate E sta vicino A quello Dei vestiti americani Comunque È un signore Con i capelli Diciamo Arancioni Gli occhiali Molto garbato Non vi potete sbagliare Vende Diciamo Tutte queste cosine Molto molto carine E vi faccio vedere Cosa ho preso Allora vi faccio vedere Diciamo L'unica cosa Che non c'entra niente Col trucco Ma è questo Portafoglio Mi è piaciuta Insomma La fantasia C'è Londra Praticamente I soldatini Non lo so Mi sembra Tipo la fantasia Tim il braccialini Più o meno E si apre in questo modo Io non amo molto I portafogli Che si aprono Insomma Così Perché li trovo scomodi Però mi piaceva Particolarmente Diciamo La fantasia Poi tiene questo Campanellino Molto molto carino L'ho pagato 8 euro E ho detto Vabbè Per quello che costa Lo prendo Quindi L'unico Diciamo Prodotto Che non c'entra niente Con Con il trucco E al banchetto Vi faccio vedere subito Cosa ho preso Allora Tempo fa Avevo preso Questa cipria Di bourgeois Che è Nella colorazione 74 A brigote Eccola qui Ed era Come vi ho detto Un pochettino Diciamo Scura Tipo aranciata Per la mia colorazione Cioè In realtà va bene Perché se la voglio abbinare A un fondotinta Più chiaro Tipo quello della stila Che vi ho fatto vedere Nel video Ho il befanuso Per chi non l'ha visto Ve lo lascio giù Nell'info box Che comunque È molto più chiaro Della mia carnazione Va bene È molto molto bella Su È vellutata Questa qui È la La colorazione Che vi ro Un pochettino All'aranzato Questa cipria Ha un odore Di fiori Eccola qui Ha un odore Di fiori Fantastico E Ha una polvere Molto molto sottile Ce l'ho anche su adesso Sigilla molto bene Il trucco È impercettibile Non vi fa l'effetto Mascherone È davvero Ottima Infatti Ne ho presa un'altra Nella colorazione 73 Miel Doré Eccola Come potete vedere Tutti i prodotti Che compro a questo Banchetto Hanno il sigillo Vedete Questa era Diciamo Sigillata Sempre Della Beausoire Ed è la 73 Che sarebbe La più chiara Di questa qui Praticamente E ve la faccio vedere Subito Ed è praticamente Il mio colore E questa qui Utilizzata Per Per il trucco Di oggi Ed è fantastica Cioè io Non posso far a meno Di sniffarla Perché ha un odore Di fiori Fantastico Infatti Secondo me Il packaging Riprende anche Diciamo La fragranza Della cipria Per chi non ama Diciamo Il trucco Con Diciamo Che Profuma Cioè Per chi ha questo problema Magari allergico A trucchi Che non hanno Diciamo Un odore Neutro Ma hanno Diciamo Queste fragranze Non è indicata Però Come prodotto Vi assicuro È fantastica Perché se no Non mi sarei andata A comprare Un'altra cipria Identica e precisa Queste qua Al banchetto Le ho pagate Sempre 3 euro Come sapete E ve la straconsiglio Perché è fantastica Questa È la Mildoré La 73 Molto Molto Soffice Vedete La differenza Tra Le due Questa qui È Diciamo Molto Molto Chiara Vedete È il mio colore Di pelle Per questo Non si nota Questa qui Già è un po' Più sul Marroncino Quindi comunque Era abbastanza Scuretta Questa qua La sfrutterò Tantissimo Secondo me Diciamo Il periodo Estivo Perché È Tipo Un marroncino Sono Fantastiche Queste cipri Davvero Però Questo signore Purtroppo Viene O a Salerno O a Napoli Quindi Per le ragazze Di Napoli Passate Da questo Banchetto Perché Si fanno Veramente Degli affari Super Poi Sempre Della Bojoir Ho comprato Questo Correttore Che È L'Eppy Light Nella colorazione 21 Ivoir Penso che si pronuncia Così Il packaging È molto carino Perché È fatto Tipo A Calamita Anche qui Vedete C'è Il Sigillo E questa È La colorazione Del correttore È un correttore In In Cialda Ed è Quello che ho Su adesso Mi piace Perché Oltre ad avere Un'alta coprenza È anche Un correttore Illuminante Per dirvi La coprenza È come Questo qui Di Catrice Il Catrice Camouflage Però Questo qua Di Catrice Ha un effetto Matte Diciamo Sul viso Non è Un correttore Da utilizzare Anche per Illuminare La zona Occhiaia È più Un correttore Per coprire Imperfezioni Questo qui Ha Diciamo È due Correttori In uno Perché Ha sia Diciamo È un prodotto Sia che vi offre Un'alta Coprenza Ma anche Illumina Diciamo La zona Delle Delle Occhiaie È davvero Fantastico E anche questo L'ho pagato Solo 3 euro E questo qua È molto carino Il packaging C'ha anche Lo specchietto Salve E davvero Ve lo Ve lo Straconsiglio Se lo trovate Anche diciamo Su qualche sito Perché è davvero Molto molto buono Lo sto provando Lo sto provando In questi giorni E mi ha stupito Poi Sempre della Bourjoire Ho preso Questo rossetto Della Rouge Edition Eccolo qui Che è il numero 12 C'era solo Questa colorazione Ed è Diciamo Un Fucsia Sembra Un rosa Shocking Ma in realtà Non è matte Ma è un effetto Sheer Questo è il colore Come potete vedere Ha una scrivenza Fantastica Questo rossetto E Idrata moltissimo Le labbra E Diciamo Una cosa Che ho notato Che Diciamo Anche se va via Diciamo L'effetto lucido Lascia comunque Le labbra colorate Perché io Sinceramente Non ci davo Una lira Perché solitamente Tutti i rossetti Sheer Che ho Durano due o tre Rette E poi vanno via Questo qui invece Davvero Dura tantissimo E anche Se va via Diciamo Il lucido Sulle labbra Vi rimangono comunque Le labbra colorate Di questo rosa Fantastico E Mi piace Per tre euro Che l'ho pagato Ve lo straconsiglio I prodotti Della Bosuar Li potete trovare Anche su Asos Però ovviamente Non costano tre euro E questo è il colore Il numero 12 Che è fantastico È un colore Un po' più estivo Ed è un fucsia Meno intenso Del fucsia Del rossetto di MAC Il Candy Yum Yum O del 52 Di Barry M Perché io Ho anche Ho il dupe Del Candy Yum Yum Di MAC Che è il 52 Di Barry M Ed è fantastico Questo qui È leggermente Meno fluo Di quello lì Poi Ho preso Sempre al banchetto Questo blush Della Yune O Yune O Yune Non saprei dire Questa marca qui L'ho vista Da Zorza April Che aveva acquistato La BB cream La BB cream Contorno occhi Insomma Vari prodotti Però il blush Non l'ho visto Il blush Che mi vedete Su Che ha Crea questo effetto Glow Fantastico E' proprio lui Cioè io adoro Questo blush L'ho comprato Da poco Ma già lo amo Ed è Il Breezy Cheeks Blush La colorazione B03 Anzi Faccio prima A farvelo vedere Da Se metto a fuoco Magari Comunque Il Breezy Cheeks Blush La B 003 Vi ripeto L'ho comprato Ieri Quindi Come prima impressione Mi sta piacendo molto A parte che ha questo colore Molto molto naturale E mi fa impazzire Davvero Io poi sono malata Di blush No Mi piace molto Ha un effetto Diciamo Illuminante Sul viso Mi piace parecchio Vi terrò Comunque A giornata Su questo prodotto Per ora Mi sta piacendo tanto Sempre A 3 euro Però Ne ho visto solo uno Che mi sono accaparrata io Non so se arrivano Sempre Questi prodottini qua Comunque Sono troppo contenta È fantastico Poi Due prodotti Della Rihanna E ho preso Un correttore Della Rihanna Questi qui Sono dei prodotti Super super economici Costano 1 euro e 50 E Questo qui È La colorazione C1 Perché Diciamo Sul packaging Non porta La colorazione Comunque Il C1 Infatti Come potete vedere È molto Molto chiaro L'ho preso Come Diciamo Correttore Illuminante Questo È Il colore Devo dire Non è male Per il prezzo Che ha Costa davvero Pochissimo Non va Nelle piedette Si fissa Molto bene E Illumina Anche Il viso Come potete Vedere Da questo effetto Luminoso Anche perché Vabbè Ho preso un colore Molto più chiaro Rispetto alla mia Parnazone Di un tono più chiaro Proprio per creare Questo effetto Diciamo Luminoso Sul viso E devo dire Mi sta piacendo L'ho utilizzato Un 2-3 volte Come prima impressione Mi sta piacendo Per il prezzo Che ha E lo stesso vale Per il rossetto Sempre 1 euro e 50 Questo qua È Il 51 Credo Comunque era il più scuro Che aveva Ed è questo Rossettino qui Che sembra nero Cioè Dalla webcam Sembra nero Ma in realtà È un borgogna Scurissimo Ve lo faccio vedere Ce l'ho anche In un trucco Che vi ho postato Su facebook È questo Diciamo Borgogna Molto Molto scuro Ha un effetto Sheer Come vedete L'unica pecca Di questo rossettino Qua è che bisogna Saperlo dosare Perché Essendo molto Ha una texture Molto morbida Molto scorrevole Rischiate di sbordare E il rossetto Tipo vi arriva Qua tutto sbavicchiato Ed è bruttissimo Infatti Quando lo applico Ci metto sempre su Come primer La matita di Wicon Faccio sia il contorno Labbra Che tutte le labbra Con la matita Che mi funge da primer In modo tale Che non me lo ritrovo Qui sotto Proprio perché Ha una consistenza Molto morbida Poi parliamoci chiaro Per un rossetto Da 1,50 euro Non puoi pretendere Una grandissima prestazione E ve lo consiglio Perché costa pochissimo Non ha una vasta gamma Di colore La maggior parte Dei colori che ha Fanno un po' schifo Però volevo Un rossetto Abbastanza scuro E ho deciso Di provare lui Non è male Per il prezzo Che ha Potete provare E al limite Vi ripeto Con queste accortezze E evitato Insomma Di far sbordare Il rossetto Ultimo prodotto Che diciamo È quello più caro È l'eyeliner Di Maybelline Cioè questo prodotto In realtà Mi hanno isolata Perché io sono andata Ad acqua e sapone E ho chiesto L'eyeliner di Maybelline Quello lì in nero La commessa fa No ma quello in realtà L'eyeliner di Maybelline Lo fa O nella tonalità Black chrome Che sarebbe questa O la black brown Che era un marrone Cioè era un nero Che virava al marrone E io così Vabbè Prendiamo questa black chrome Che vi faccio vedere subito Come potete vedere È un nero Con dei glitterini Cioè in realtà Per avere un effetto intenso Dovete La prima passata Diciamo è così Poi Ci andate a ripassare Sopra l'eyeliner Fino ad avere Un colore bello Pieno Però vi ripeto Mi sono rimasta male Perché alla fine Il nero c'era Te lo fa a Maybelline Solo che l'ha commessa Per divendermi sta cosa Io non mi sono informata Prima Mi sono ritrovata Con questo 07 black chrome Ha un costo di 7 euro Giù di lì Da acqua e sapone Devo dire la verità È un buon eyeliner Mi ci sto trovando bene Ci sono rimasta male Che non ho preso il nero Però vabbè In alternativa Ai soliti eyeliner neri Con un tocco luminoso Ci sta dai E in più In dotazione Vi davano questo Questo pennellino qui Che non è male Io però Lo utilizzerei più da labbra Perché mi trovo Più con I pennelli angolati Per fare la riga Di eyeliner Rispetto a questi qui Ma devo dire Che è fatto È fatto bene Vedete Ha proprio la forma Da pennello da labbra Cioè Secondo me Si può riutilizzare Tranquillamente Per Per quello Perché io personalmente Non mi ci trovo Con Con Diciamo Questa tipologia di pennello Per fare la riga di eyeliner E niente ragazze Questi sono stati I miei acquisti Mi volevo scusare anche Con tutte le youtuber Che Mie preferite Che non ho nominato Nel video Spettaculess Perché sono davvero Tantissime Cioè Seguo Seguo con piacere Valeria Trucchino a 100 Zozo 91 Mi avete chiesto Cosa penso Di Mr. Daniel Makeup E lo seguo Perché L'ho conosciuto Tramite il video Del contouring E sono rimasta Tipo così Incantata E bravissimo Le cose di chicca Cioè Davvero Ne sono tante Ho conosciuto Grazie a voi Delle youtuber Fantastiche Cioè Voi mi avete consigliato Camilla Milanessi Cioè Io mi sono andata a vedere Quasi tutti i video Di quella ragazza È spettacolare Cioè Mi dà un'allegria Hola chica Hola chiki No Mi fa freare troppo È simpatica E Poi Grazie a quel video Ho conosciuto anche Altre youtuber Pink Pink Fashion 1985 Che è una ragazza Fantastica Sto cercando di fare L'SOS Blush Cioè Per chi Ha molti blush E vuole smaltirli Però non ci sono riuscita Anche perché mi sono comprato Un blush Però Tralasciamo questo Ciotolina Che è fantastica Davvero Tante ragazze Non voglio fare un Tortore nessuno Mi ha fatto davvero Piacere Insomma Che mi avete consigliato Questi canali E Mi avete fatto scoprire Delle persone Davvero molto Delle persone Davvero fantastiche Umili Sincere Sono davvero Contenta E niente ragazzi Vi mando Un forte bacio E ci vediamo Prestissimo nel prossimo video Ciao Ciao